Volley femminile in Serie A1 rialza la testa Cuneo che torna la vittoria e sale al terzo ultimo posto. Bene anche Novara e Pinerolo nel basket tra le piemontesi esulta solo Torino. Davide Lessi. Per una volta partiamo dal fondo perché il titolo di giornata se lo prende Cuneo che si tira fuori dalle ultime due posizioni, quelle con vista retrocessione, merito di una prova di cuore con Busto Arsizio battuto per 3-1. Prima vittoria per il nuovo allenatore Stefano Micoli subentrato a metà febbraio a Massimo Bellano. Ma se Cuneo torna a respirare parte del merito è anche di Pinerolo che sabato ha battuto Bergamo per 3-1 fermando le Lombarde al penultimo posto in classifica. Niente da fare invece per Chieri che dopo l'exploat europeo e la finalissima in Cevcab conquistata a Parigi non è riuscita nell'impresa di battere Scandicci in un palafenera tutto esaurito. Finisce 3-1 per le Toscane. Non si ferma invece Novara che si è giudicata per 1-3 la sfida e Finenze e si garantisce così la certezza aritmetica di chiudere tra le prime quattro in campionato. Un altro successo dopo la Challenge Cup per la squadra di Bernardi. Il basket in avanti.